Ciao ragazzi, ciao ragazzi, bentornati e bentornati nel mio canale oggi un nuovissimo video dei prodotti finiti del mese di novembre sì, novembre è già finito, ragazzi, siamo quasi a Natale io ho già praticamente addobbato tutta casa mi manca veramente da mettere le luci fuori e un filo di luci che Gabriele mi è andato a comprare ieri mattina perché dall'anno scorso si erano fulminate ma ho già finito anche di addobbare casa e quindi presto vedrete qua sul canale un video dove vi faccio vedere gli addobbi allora, prima che me lo chiedate, tanto lo so perché mi mandate un sacco di messaggi in privato non qui ma su Instagram sui prodotti che utilizzo per toccarmi che vedete nei video e sulle labbra ho utilizzato questa tinta qua che è una tinta di questo bordo meraviglioso ed è un dupe di Jeffree Star come vedete anche il packaging è uguale al Jeffree Star ma non è di Jeffree Star l'ho presa su Aliexpress ed è la tinta numero 02 ed è, ragazze, bellissima veramente io due o tre giorni la utilizzo mi dura un sacco sulle labbra e ho anche difficoltà quando arrivo in fondo alla giornata a stroccarla è meravigliosa comunque, passiamo al video dei prodotti finiti perché il mio cestello che è qua accanto a me è bello, bello, pieno allora, il primo prodotto terminato sono queste salviette multiuso sono delle salviette baby e mille use del marchio, credo sia, IRGE a l'aloe vera io, lo sapete queste salviette le compro sempre quando le trovo a offerta nei vari store negozi per la casa ovunque e le compro sempre appunto quando le trovo a offerta le utilizzo sulla scrivania per pulirmi le mani dagli swatch mentre mi trucco perché io ho l'abitudine di mettere tutti i prodotti sulla mano quindi fondotinta primer e quant'altro quindi le utilizzo proprio per pulirmi la mano mi ci sono trovata bene ottime però, appunto ripeto io le utilizzo solo per quel motivo lì poi ho terminato un bagnoschiuma e questo qua è un bagnoschiuma della Balea al credo sia latte e miele che ho comprato l'anno scorso al DEM in Austria mi ci sono trovata benissimo ragazzi questi bagnoschiumi sono veramente la fine del mondo questo ha un profumo molto delicato sta di miele ma non troppo dolce è veramente veramente ottimo questi bagnoschiumi dicevo sono ottimi soprattutto del marchio Balea peccato che il DEM non si trovi in Italia anche se so e ho letto su Facebook su Instagram che apriranno un nuovo centro a Milano quindi per chi è di Milano fortunata vada sicuramente a farci un salto perché questi prodotti sono veramente ottimi e devo anche dire sono molto molto low cost quindi ottimo davvero ne avevo presi uno solo ma ne ho una scorta infinita dei prodotti della Balea si poi ho terminato quest'altro bagnoschiuma che è un gel dolcia della Lush questo è Snow Fairy ed è un gel doccia che come potete vedere è rosino e dal suo interno tutti i brillantini infatti qui c'è scritto fate voi è il gel doccia ufficiale delle fate è dolcissimo e i brillantini fanno magie è buonissimo ragazzi io lo avevo comprato questo l'anno scorso che c'è? lo avevo comprato dicevo l'anno scorso per i saldi però è troppo buono io ne avevo una mini sites ma ho dovuto riprendere perché è veramente troppo 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 buono questo è dolce non vi so dire se sa di fragola perché non riesco a capire comunque è dolcissimo quindi se non vi piacciono le profumazioni dolci no non è adatta agli uomini perché appunto le lascia sul corpo un po' di brillantini però è veramente la fine del mondo ho terminato ragazze poi questa crema ed è del marchio Bo Cosmetics e lo avevo l'avevo comprata l'anno scorso al Cosmoprof l'anno scorso intendo 2017 e me l'aveva consigliata quella dello stand perché mi aveva detto che era una crema adatta ai bambini quindi molto 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 delicata molto buona soprattutto perché ha la pelle molto delicata come me mi ci sono trovata abbastanza bene non è stato tutto questo si wow la crema di nessun eccetera eccetera però comunque un prodotto abbastanza ottimo se vado un altro anno al Cosmoprof non credo di riacquistarla perché si era buona idratava ma non faceva il tanto al caso mio però secondo me per i bambini che comunque hanno una pelle si delicata ma magari non hanno la pelle secca come la mia va benissimo poi ho terminato questo mega boccettone di crema ristrutturante della Splendor al cocco questo è all'olio di cocco e estratto di bambù ammorbidente rigenerante per tutti i tipi di capelli allora intanto vi dico che la profumazione mi piaceva abbastanza anche se non è una delle mie profumazioni preferite benché sia al cocco come crema ristrutturante si funzionava abbastanza non è la crema ristrutturante dei miei sogni assolutamente no infatti l'ho terminato ci ho messo un bel po' a terminarlo perché l'alternavo con altri prodotti perché non è che mi rendesse i capelli chissà come ovviamente è un prodotto molto 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 economico e quindi si sa dove si va a parare anche se shampoo e balsamo della Splendor mi piacciono molto tutti sia quelli al cocco le ho provate diciamo un pochino tutti mi sono piaciute tutti questa insomma diciamo che non credo di riacquistarla ho terminato ragazzi poi questo bagnoschiuma qua questa è della bubble bath di Avon e questo ha la profumazione cranberry e orange lo sapete i bubble bath sono i bagnoschiumi che noi utilizziamo sempre sempre in casa questo era buonissimo cioè si sente ancora la profumazione dell'arancio una profumazione molto invernale ed è veramente ottimo era una limited edition non so se esista ancora sul catalogo caso mai controlli se la trovo ve la lascio ve lo scrivo qui o giù nella info box però veramente ottimo adoro adoro l'arancio getto ragazzi questo pacco di salviettine molti uso perché praticamente l'avevo in una borsa e si sono seccate quindi le getto però me le vedete spesso nei video dei prodotti finiti perché sono piccole è un pacchettino da 15 pezzi le tengo sempre in borsa mi piacciono tantissimo però purtroppo sono seccate poi ho terminato queste salviettine struccanti di Lady Venezia queste sono 3 in 1 strucca deterge e nutre triplazione all'acqua micellare con olor di jojoba e aloe vera mi sono piaciute diciamo è un nì perché sinceramente mi andavano a seccare un pochino la pelle nel viso io credo di avere un altro pacchetto adesso nella borsa della palestra e quando le vado a utilizzare vuoi perché non sono molto umide mi vanno proprio sento che la pelle ha veramente bisogno poi di essere scosparsa di crema idratante cosa che invece non mi fanno assolutamente le salviettine della Valentina che lo sapete sono le mie preferite in assoluto quindi se non avete problemi di pelle secca ok ve le consiglio altrimenti no perché sono un po' troppo secche per me ho terminato poi della seta blu queste salviette struccanti triplazione detergono idratano e leniscono per pelli sensibili salviette struccanti con acqua micellare ecco ragazzi con queste mi ci sono trovata molto 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 bene perché queste qui a differenza delle altre che vi ho fatto vedere quando andavano a struccare lasciavano comunque la pelle idratata e si sentiva veramente l'idratazione della pelle quindi io comunque vado a applicare comunque una crema idratante sul viso però con queste non ne sentivo il bisogno come con le altre infatti se queste le ritrovo le ricompro assolutamente mentre le altre no perché non vi ci sono trovata molto bene ho terminato ragazze poi questo doccia schiuma qua questo è un del marchio roche cavalier che dovrebbe essere il brand della neutro roberts perché chi me lo ha regalato mi ha detto che lo acquista allo spaccio della neutro roberts che si trova a Calenzano è veramente ottimo questo è adatto per me perché è nutriente alle strati delle proteine della seta e soprattutto è adatto alle pelli sensibili io ragazzi con questo mi ci trovo benissimo infatti lo tengo in casa nel mobiletto del bagno per lavarmi le mani o comunque sotto le ascelle perché ovviamente mi lago sempre anche se poi la sera faccio la doccia ma io la mattina ho bisogno di lavarmi di sentirmi pulita e utilizzo questo perché è molto delicato ed è veramente adatto a questo tipo di operazioni ne ho anche altri ci ho anche fatto la doccia è fantastico veramente lascia la pelle morbidissima e idratantissima ve lo strastra consiglio ho terminato poi ragazzi questo pacco di veline questo è del marchio bulky soft non mi chiedete dove le prendo però le tengo sulla postazione make up per pulirmi per soffriarmi il naso e quant'altro e voi lo sapete poi ho terminato un po' di prodotti per capelli allora ho terminato questo luminol della elgon che io vi ho già parlato in tantissimi video che è un prodotto fantastico praticamente è un balsamo ristrutturante che si applica tipo spuma vedete ha proprio il boccettino tipo spuma si si mette sulla mano si va a applicare sui capelli si lascia agire e lascia i capelli di una morbidezza incredibile tra l'altro è comodissimo da utilizzare perché è piccolo il pack e quindi facilmente trasportabile anche se si va via qualche giorno e sempre della elgon ho terminato il sublimia questo ragazze altro non è che un balsamo per capelli è un trattamento 10 in 1 e anche questo qui ragazze ve ne ho sempre sempre parlato praticamente si può fare anche lo shampoo tamponare i capelli spruzzare questo e asciugarli e vi posso assicurare che lascia delle lunghezze veramente fantastiche e favolose i prodotti della elgon sono dei prodotti professionali per parrucchieri quindi non sono prodotti da supermercato che si trovano a cadda a questa pone per soppe e quant'altro però si possono trovare facilmente nei centri di rivendita per prodotti per parrucchieri a me me li da la mia parrucchiera e mi ci trovo veramente molto bene con questi tipi di prodotti infatti io li ho riordinati ma non me li ha ancora portati che caso poi ho terminato sempre per i capelli questo shampoo dell'angelica è uno shampoo antiforfora con salvia e ginepro rosso ed è veramente ottimo voi sapete qual è la mia hair care routine perché ve ne ho sempre parlato io per prevenire la forfora o comunque per evitare che mi venga la forfora in testa utilizzo una volta a settimana prima dello shampoo classico che utilizzo io uno shampoo antiforfora avevo trovato questa offerta l'ho preso mi ci sono trovata molto molto bene mi è piaciuto molto l'odore perché si sente molto l'odore della salvia e io amo amo veramente l'odore della salvia e poi comunque lavava molto bene i capelli mi sentivo veramente la cute pulita idratata e quant'altro poi sempre per capelli ragazzi ho terminato queste due mini sides di questo olio che si chiama mash hook allora questo mi è stato gentilmente inviato dall'azienda e mi è stato inviato due mini sides praticamente e una full sides allora io ho deciso di utilizzare le mini sides però vi parlo nello specifico di questo prodotto in un video haul che vi ho già girato e che presto vedrete sul canale comunque è un trattamento è un olio trattamento di capelli pre shampoo e si può fare in due modi o si applica si lascia agire qualche minuto e poi dopo si va a lavare i capelli oppure la cosa che faccio io me lo do la sera ci dormo tutta la notte e poi mi vado a risciacquare a lavare i capelli il giorno dopo è un olio che contiene la bellezza di 10 oli naturali ed è un olio veramente fantastico perché non unge non appesantisce il capello si può utilizzare anche sulla cute e l'ho testato anche per chi ha i capelli grassi quindi veramente un prodotto top e una volta lavato i capelli con lo shampoo ovviamente e il balsamo voi non potete capire quanto sono belli lucidi i vostri capelli sembrano veramente usciti dal parrucchiere quindi ve lo stra 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 consiglio ripeto vedrete tutto in un video non so se lo caricherò prima o dopo di questo poi ho terminato un bel po' di maschere viso io lo sapete cerco di farmi la maschera una volta alla settimana allora ho terminato questa del marchio Stella Fiesta ed è una maschera coreana alla vitamina C io ragazze lo sapete amo veramente tantissimo queste maschere coreane perché sono molto molto piene di prodotto quindi una volta applicate sul viso altro che 20-25 minuti secondo me ci si possono lasciare benissimo anche un'oretta però in realtà io quando mi faccio queste maschere cerco di lasciarcele il più possibile per farle comunque lavorare bene sulla mia pelle questa è buonissima non sento odori non mi ricordo che avesse odori però ve la consiglio perché è veramente molto 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 idratante poi si sa benissimo che la vitamina C fa tanto tanto buono alla pelle poi ho terminato questa maschera della Seta Blue Prestige ed è una maschera nutriente intensiva al caviale nero allora ragazze cosa dirvi di questa maschera mi è piaciuta questa me la sono provata in diretta con voi su Instagram se vi ricordate bene nelle mie stories ve ne ho già parlato mi è piaciuta abbastanza non cola c'è scritto perché effettivamente ora no ce l'ho no l'ho buttato lì praticamente invece di essere una maschera in tessuto molle è una maschera in tessuto un po' rigido sembra quasi tipo plastica e quant'altro si applica sul viso si lascia agire mi sembra da 15 a 25 minuti e si rimuove allora a me è piaciuta perché dirvi che non mi è piaciuta vi direi una bugia perché mi ha veramente idratato la pelle però a mio avviso preferisco più le maschere in tessuto tipo queste dove c'è tanto prodotto e si sente veramente sul viso e quando si toglie praticamente andando a massaggiare si sente il prodotto che proprio entra all'interno della pelle cosa che invece non mi ha dato questa ne ho comprate altre di diverso tipo quindi le voglio assolutamente provare per vedere un attimino come sono se magari questa qui perché ha il caviale vedremo e poi vi farò sapere comunque se le trovate provatele perché anche se non danno appunto questo effetto di molliccio sul viso hanno un'azione veramente molto idratante poi ho terminato due maschere queste qua sono quelle della Kiko allora ragazze queste sono quelle della Kiko del brand Zomania io ne ho comprate quattro perché quando sono andata da Kiko non vi ho fatto il video haul perché avevo preso solo queste c'era l'offerta che se prendevi quattro maschere una ti veniva in omaggio e ho preso tutte queste del brand Zomania perché sono delle maschere idratanti sapete che io ho proprio bisogno di idratare la mia pelle allora io ho utilizzato questa a gatto e questa a orso per il momento sono delle maschere bellissime a vedersi perché ovviamente in faccia ti viene disegnato l'animalino cioè top veramente top e se devo essere sincera mi sono anche tanto piaciute come idratazione unica pecca rispetto alle maschere coreane e torno lì le maschere coreane sono le mie preferite in assoluto è che queste qui si asciugano velocemente quindi qui c'è scritto di utilizzarle dai 20 ai 30 minuti togliere e poi massaggiare quando si tolgano il tessuto è quasi asciutto cosa invece non hanno le maschere coreane cosa che io amo alla follia però ragazze lascia ad una pelle idratantissima quindi ve le straconsiglio caso mai quando proverò un'altra che ce l'ho ne ho altre due vi posso fare il video o la prova su strada come si chiamano su instagram così voi potete vedere il risultato della pelle una volta eliminata quella maschera andiamo avanti allora ho terminato questo gommage della geomar viso ed è uno scrub cremoso delicato con pomice bianca e bio fiore d'altea allora di questo ragazzi vi ho fatto una review molto molto dettagliata su instagram quindi ragazzi vi invito ad andare su instagram questo è il mio profilo sono beauty secret franci e trovate la review dettagliata su questo prodotto che è è un prodotto fantastico io lo amo è un prodotto veramente molto delicato adattissimo alla mia pelle delicatissima ed è uno scrub che mi posso permettere di fare anche tutti tutti i giorni alla sera quando mi vado a struccare andatevi a leggere la review fatemi sapere sotto nei commenti mi raccomando se siete andate a leggerla o seppure già mi seguivate quindi già l'avete letta questo scrub della biopoint che avevo preso all'interno di di un giornale questo nello specifico è quello al sale marino allora a me questi scrub sono tanto tanto piaciuti però sono un po' aggressivi per la mia pelle la mia pelle lo sapete è molto delicata quindi sono proprio scrub che io vi consiglio di fare una volta alla settimana non di più perché si rischia di fare del male anziché del bene ma andavano a scrabbare benissimo la pelle e l'ho testata anche sul viso cioè veramente favoloso stupendo quindi questi erano appunto mini sites io ve li straconsiglio però ripeto sono da utilizzare solamente una volta a settimana perché sono un po' troppo aggressivi tra l'altro sono nickel test senza parabeni oli minerale alcol e coloranti quindi dei prodotti top ovviamente ripeto da utilizzare solamente una volta a settimana ho terminato poi per finire un deodorante questo era della felce azzurra e come potete vedere è praticamente terminato io mi ci sono trovata molto 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 bene è un deodorante in stick profumazione non riesco più a leggere sono sincera non riesco più a leggere niente perché si è praticamente tutto scolorito però mi ci sono trovata molto molto bene parlando di deodoranti daniela che sghibellina 72 un po' di tempo fa aveva scritto questo su instagram dovete piantarla di scrivere sui deodoranti che durano 24 ore perché c'è gente che ci crede ora ragazze perché perché la gente si dà diodorante e non si lava perché io mi domando perché cioè ora qui sono sincera ve l'ho detto non riesco a leggere la durata e quant'altro però io comunque mi lavo al mattino alla sera e anche se sul deodorante c'è scritto che dura 48 ore io lo vado a riapplicare perché non si può sentire il puzzo di ascella delle volte vai a giro in estate è più capibile però ripeto si sente la differenza tra il puzzo di ascella fresco e il puzzo di ascella stantio c'è alcune che hanno un puzzo di ascella stantio una cosa obreobriosa veramente obreobriosa quindi facciamo una campagna contro le ascelle perché lavatevi non vi date solo deodorante ma vi prego vi prego assolutamente lavatevi comunque ragazze detto questo questi sono tutti i miei prodotti terminati del mese di novembre come avete visto ho terminato un sacco di prodotti comunque ragazze fatemi sapere anche voi sotto nei commentini se avete utilizzato qualche uno di questi prodotti come vi ci siete trovati se siete favorevoli alla campagna contro le ascelle puzzolenti e niente vi mando un bacione enorme grazie per seguirmi grazie davvero mi state lasciando un sacco di commentini sotto qui a youtube poi tante ragazze mi guardano il video mi vengono vengono su instagram a chiedermi alcuni consigli continuate mi raccomando io vi mando un bacione enorme e niente ci vediamo al prossimo video ciao 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 Grazie a tutti.